Ciao a tutti, è stato bello conoscerti, ma lasciarti è stato meraviglioso. In questo video voglio spiegarti perché in fondo lasciare una persona quando non ti dà più piacere è molto meglio che conoscere una persona che ti possa dare piacere di fatto. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni e seminari del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo dunque al tema. È stato bello conoscerti, ma lasciarti è stato meraviglioso. Allora, quando conosciamo una persona che ci dà piacere, con la quale stiamo bene, beh, questo è sicuramente bello, conoscere questa persona, portare avanti una relazione con questa persona. Sicuramente è un qualcosa di positivo, è un qualcosa che fa bene all'anima, è un qualcosa che ci dà un benessere. Ma quando poi la relazione non va più, o quando poi le cose non vanno più bene, quando le situazioni non funzionano più, beh, allora ci sono due possibilità. Quando tu vivi in uno stato di sofferenza, o continui a tenerti la sofferenza di quella relazione, allora inizierai a nutrirti proprio di sofferenza. Ma se invece farai una scelta, la scelta di lasciare, scoprirai che ti darà molto più piacere del piacere che ti ha dato a conoscere una persona da quando tu stai in uno stato neutro. Perché tu stai in uno stato neutro. Conosci una persona con la quale interagisci e magari hai, diciamo, una relazione positiva. Magari ne trai un vantaggio, ne trai un beneficio, ne trai un benessere. Ma quando inizia il malessere, se tu fai un atto di coraggio e lasci quella persona, vedrai che questo è meraviglioso. Ti darà un piacere immenso. E tra l'altro tu riuscirai, da questo punto di vista, ad ottenere dei risultati grandiosi nel senso del benessere. Perché migliorerai la tua autostima, darai forza, darai forza alle tue relazioni, darai forza alla tua vita. Farai fare un salto quantico notevole alla tua vita. E questo dà molto più piacere. È come dire, secondo te, dà più piacere entrare in uno stato di benessere, non so, provare un orgasmo come un piacere o uscire fuori da un dolore? Ti stavano torturando e finisce la tortura. Beh, posso assicurare che, o guarire da una malattia, che ti dà molto più piacere eliminare, togliere un qualcosa di negativo. Togliere il dente che ti fa male. Ma il problema è se tu te lo tieni, sto dente che ti fa male. Quindi quando una relazione non va, chiudi subito. Vedrai che potrai dire tranquillamente è stato bello conoscerti, ma lasciarti è stato meraviglioso. Perché la soddisfazione, il godimento che provi nel lasciare quando una situazione non va più, posso assicurarti che è veramente stupendo. È davvero meraviglioso. Ti farà fare veramente un salto quantico nella relazione. Quindi ricordati, è stato bello conoscerti, ma lasciarti è stato meraviglioso. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo che sul canale ti potrai abbonare e abbonandoti potrai trovare delle risposte precise, mirate alle tue domande. Per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao!